L'estate per varie motivazioni, la più comune è quella della prova costume, quindi l'imbarazzo di farti vedere mezzo nudo in costume dalle altre persone con quella pancetta o con quei chili fuori posto, ci siamo impegnati, ci siamo messi a dieta, abbiamo anche raggiunto i risultati. E poi arriva l'autunno, quando arriva l'autunno, arrivano le prime piogge, passa l'estate, inizia l'autunno e abbiamo una tendenza fisiologica a prendere un po' di peso. E allora Corpus Novum vuole contrastare questa tendenza fisiologica. Il 25 settembre inizia il corso, è un corso online che trovi sul sito www.daniodemari.it nell'area formazione Corpus Novum. Vedete, autunno, versione autunnale, che contrasta la SAD. Ci sono tanti motivi per i quali il metabolismo tende a rallentarsi, pur mangiando le stesse cose di sempre, ma nel passaggio dall'estate all'autunno e poi verso l'inverno, noi tendiamo a mangiucchiare sempre fuori pasto. Tendiamo a mangiare anche troppo la sera, fuori pasto, quindi dopo cena. Questo è dovuto a tanti meccanismi fisiologici che sono collegati all'ambiente, quindi alla luna, al sole e dobbiamo fare attenzione. Tendiamo, forse per via degli impegni, a stressarci di più, quindi andiamo verso il cortisolo alto, la serotonina bassa. La serotonina bassa ci porta a una tristezza, alle ansie, agli attacchi di panico, alla fame nervosa, quindi alla tendenza a mangiucchiare di più. La vitamina D. Entriamo fisiologicamente in carenza di vitamina D perché non ci entriamo più in contatto. La vitamina D è collegata a sua volta alla tiroide e la tiroide è collegata al metabolismo, ovvero gli ormoni tiroidei sono collegati alla quantità di ossigeno che entra nei mitocondri nell'unità di tempo. Più ossigeno entra nei mitocondri e più veloce sarà il metabolismo basale, cioè potrò mangiare di più bruciando di più. Motivo per il quale ci alleniamo anche, quindi Corpus Novum è un percorso che ci porta a comprendere tutti i meccanismi che ci portano all'adattamento della SAD, quindi la vitamina D, il sole, la melatonina, la ghiandola pineale, sono tutti concetti importanti che andremo ad approfondire proprio il 25, che ti scrivi prima del 25, la cosa interessante è che potrai partecipare durante la live, quindi potrai interagire realmente con me facendo tutta una serie di domande. Ci sarà il gruppo Whatsapp, ci saranno i workout che sono specifici per il corso Corpus Novum, il piano di allenamento, il piano di meditazione, perché ci sono anche degli esercizi per gestire lo stress, sia serale, quindi per migliorare il sonno, e sia gli esercizi per gestirlo durante il giorno. E poi c'è tutto il programma alimentare da seguire. E questo è Corpus Novum, quindi ti invito ad iscriverti se vuoi metterti in gioco, vuoi entrare nel gruppo Whatsapp e stare tutti insieme, perché l'unione fa la forza per tutto questo autunno. Ringrazio per l'attenzione, metti un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale attivando la campanellina. Lascia anche un commento se hai delle domande sul corso. Ciao! Grazie a tutti!